Allora, presentazione, siamo al corso e parliamo con... pronto? Ciao ciao! Con... come si chiama signora? Camilla. Ok. E invece qua veniamo alla bellissima Marika, qui la simpaticissima Enza, e qui la splendida Jenny. Giriamo. Viamo ancora. Che bevo fa, vedi, con gli occhiali da papioli? E questa sarebbe la bellissima Carla. La cecata, diciamo. La cecata. Qui abbiamo Mariangela. Ciao. Qui abbiamo Barbara. Eccola, Alessia. E qui le bimbe. Ok. E poi basta. E basta. Qualcuno ha fatto delle foto e mandate così alle ragazze, no? Jenny, sei sempre fuori luogo. Eccola qua. Eccola. Adesso vediamo. No, io ho chiesto a Marisa se li dovevo portare, lei ha detto di no. Io ho portato solo il nero, portate del kit, quindi... Guarda questa, nel sughero non rende. No. Ah. Scusa, ho ripreso le tette. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. E poi cosa facciamo? La mettiamo sul topo, poi ce la scagliamo. Poi ce la scagliamo. Io mi sarei tolta le scarpe. Gliel'ho detto, tolitele le scarpe. Ah, beh, allora sì. No, ma era solo per salire sulla sedia.